Ho partecipato con entusiasmo al congresso sulla famiglia di Verona, quello organizzato dal ministro Fontana e dai movimenti Pro Vita. Devo dire che è un congresso che è stato definito da Di Maio la riunione degli sfigati e che ha avuto un contro congresso sponsorizzato a Spadafora Torina dove si diceva che c'erano le persone ragionevoli e democratiche mentre a Verona c'erano gli estremisti. Bene, oggi devo dire che sorprendentemente il ministro Fontana dà il via per respingere la proposta, la mozione di Fratelli d'Italia che prevedeva il reddito di natalità, veri sostegni alla famiglia, asili nido gratuiti, veri incentivi alla natalità, cioè quelle cose delle quali a Verona si è discusso convintamente. È una posizione sorprendente quella della Lega, ma ci dice una cosa sola, che questa ambiguità dell'aver delegato, credevamo soltanto all'economia, le infrastrutture e i 5 Stelle, ma adesso ci sembra di capire anche le politiche della famiglia e le politiche della natalità, cioè quei temi delicati che a Verona sono stati il centro di iniziativa, ci dice che chi era Verona, chi vuole la famiglia, chi vuole un rilancio delle nascite, un sostegno alla famiglia naturale vera, deve appoggiare Fratelli d'Italia. Avere purtroppo l'ambiguità di questa alleanza con i 5 Stelle, la necessità comprensibile dell'asse di Maio Salvini non garantisce chi vuole davvero quelle politiche sulla famiglia naturale che a Verona abbiamo sottoscritto con forza e con convinzione. Questa vicenda ci ha molto rattristati, ma ci dimostra che come la politica debba qualche volta pensare soprattutto se stessa invece che i cittadini, ma la proposta di Giorgia Melone di Fratelli d'Italia andava in quella direzione che certamente chi ha sostenuto a Verona a prova. Quindi riflettete prima di votare.